Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Io prima di qualunque cosa devo dirti che è una situazione molto nuova per me. Sì, è vero, è vero. Mai come questa volta lascio a te fare gli onori di casa, perché io veramente non so come presentare la situazione che sta accadendo in questo momento. No, io penso... Allora, Giuliana, penso che al momento tutti su internet sanno chi è e che cosa fa. O sbaglio, Giuliana, questo mi sembra di aver capito. No, tutti mi sembra esagerato, però si spera di arrivare a più persone possibile. Allora, stiamo parlando con la prima, se non la più importante. Sì, la più famosa. NPC italiana. Ora, Giuliana ci spiegherà brevemente anche che cos'è l'NPC, un'idea me la sono fatta. Però io penso che quello che state vedendo adesso è una grande citazione, chi la vuole cogliere la colga, e Giuliana già l'ha accolta, la conosce. Esatto. Giuliana, praticamente tu adesso non vedi esattamente cosa sta succedendo, ma ti parliamo del fatto della Wemette Your Mother, della situazione Wemette Your Mother, no? Quindi tu sei il nostro Marsh Pillow. Esatto, e adesso quindi ti stanno vedendo così. Che tra l'altro, per due motivi, tu non sei potuta essere qui con noi. Uno... Il primo è di natura logistica. Il natura logistica. Due, perché è fighissimo farla NPC. Sì, 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 sì. Cioè proprio, stiamo facendo il nostro primo episodio NPC. Aveva proprio senso girarla in questo modo qui. Allora, Giuliana, parliamo di questo fenomeno. Spiega brevemente che cos'è l'NPC. Allora, NPC è l'acronimo per indicare Non Playable Character, che sarebbero tutti i personaggi nei videogiochi che non sono comandati appunto dal giocatore, ma fanno parte del panorama e sono messi lì per rispondere con degli input. Perfetto, non la poteva spiegare in modo... Non la poteva spiegare meglio. Una cosa che ho notato è che chiaramente tutti hanno forse notato che questo fenomeno, specialmente la tua figura, ha dato molto all'inizio fastidio, ok? Mettiamola in questo modo. Però poi ho notato che le stesse persone che ti criticavano adesso ti copiano. Come funziona questa cosa? Allora, la cosa funziona che in realtà questo faceva parte della mia strategia di content creator. Che noi stiamo parlando con una mastermind stasera. Nel senso che quello che ho pensato io è stato, beh, ovviamente se sciocchiamo le persone, poi nel momento in cui vanno a vedere che invece dietro il personaggio che sto creando c'è una persona che ha tutt'altro da offrire, ovviamente resti anche più impressa nella mente delle persone. E quindi è stata tutta una strategia quella di insistere, prima facendo l'MPC, poi anche durante la performance, molto spesso sbloccarmi per avere la possibilità poi di fare appunto la persona che c'è dietro il personaggio. E ma scioccare poi, non ti chiederò in che modo, perché in che modo l'abbiamo visto tutti praticamente nel corso di queste settimane, ma con che obiettivo? L'obiettivo, moltissime persone pensano che io mi sia messa a fare l'MPC per soldi, quando invece non è assolutamente così. L'obiettivo appunto è che nel momento in cui ho, e qui richiamo un po' la reazione che faccio spesso quando mi arrivano le donazioni dello sticker di TikTok, ragazzi sento sempre la mia voce. Prova ora, vedi adesso. Ok, molto meglio. Ok, una delle reazioni che faccio ai vari sticker che si possono donare è lo sticker di TikTok che è come fa TikTok, è facile e buona. Allora, io ho ragionato e ho pensato, su TikTok praticamente c'è un panorama enorme di persone che cercano di esporsi, esprimersi, emergere. Bisogna farlo bene, bisogna farlo con strategia, bisogna sfondare, fare una cosa che abbia imbotto. E quindi quando mi sono imbattuta per la prima volta in una live MC, che poi la prima live MC che ho visto io è stata quella di Pinky Doll, la creator americana, un po' anche grazie al background comunque di studi che avevo, sono riuscita a cogliere il fatto che appunto è un format strapieno di potenziale, proprio perché ha la capacità di colpire lo spettatore, di ipnotizzarlo, intrattenerlo, poi comunque si voglia mettere, insomma, qualunque termine si voglia usare, e intrattenerlo nella performance e poi potenzialmente anche farlo restare sul tuo profilo. Allora, ti dico la verità Giuliana, noi abbiamo detto, siamo persone molto schiette, trasparenti, tutta la verità, nient'altro che la verità, ok? Quando abbiamo notato che questo fenomeno era arrivato anche in Italia, perché una cosa che diciamo sempre è che noi facciamo la brutta copia dei temi americani, tutto ciò che funziona lì, tutto ciò che è intrattenimento americano, lo prendiamo, lo copiamo e lo facciamo fondamentalmente sempre per qualsiasi cosa, 360 gradi nell'intrattenimento. Quando abbiamo, quando sono incappato in una delle tue live, ho capito subito cosa stavo vedendo perché conoscevo Pinky Doll, subito mi è sembrata una cosa molto molto imbarazzante, però ho pensato anche, cioè non so come, ma mi è venuto, secondo me questa ragazza sa cosa sta facendo, lo fa con una certa furbizia, sa cosa sta creando, non mi sembra uno di quei fenomeni da baraccone, non so se mi spiego, che si vedono su TikTok, mi sembra più una ragazza che sta cercando appunto di creare il suo pubblico e sta portando avanti un trend per, ti dico con tutta onestà all'inizio, per fare soldi, per avere donato, per monetizzare, non ci sarebbe stato comunque niente di male. Esatto, c'è pure questo. Monetizzare che non c'è assolutamente niente di male, bravissimo. Diciamoci anzi, poter monetizzare è ottimo, però l'obiettivo comunque principale della mia strategia non era quello di fare soldi, perché per quello voglio dire, mi sveglio comunque tutte le mattine alle 5.20 e vado a fare la cameriera, però era appunto riuscire ad arrivare sul maggior numero possibile di profili di persone, nel maggior numero possibile di per te delle persone, per poi in un secondo momento dimostrare, avere la possibilità di fare qualcosa di più. Cioè è stato proposto il ragionamento, oggi se fai arte, qualsiasi tipo di arte sia musica, qualsiasi cosa, e puoi proporti, se non hai un pubblico a cui proporre quello che produci, è inutile, puoi fare anche la canzone più bella del mondo. Quindi quando io mi sono, cioè ho deciso di iniziare ad utilizzare TikTok come strumento per avere un pubblico, ho detto, bene, creiamo prima il pubblico, il format MPC è perfetto per raggiungere tante persone, per poi avere il tempo, la possibilità per chi sarà capace di guardare oltre, perché non è così per tutti, in un secondo momento di dimostrare che c'è di più. Infatti in questo momento io insieme anche ad altre persone stiamo lavorando a tutt'altri progetti. Ah, quindi ci sarà un futuro in cui noi vedremo una Giuliana Florio che non fa più le live MPC praticamente, sono una fase momentanea del tuo percorso? Allora, sicuramente fin quando avranno un'efficacia io continuerò a farle perché in questo momento ci sono circa 250.000 persone sul mio profilo ma siamo milioni di persone in Italia quindi io penso che non si finisca mai di cercare qualcuno a cui faccia piacere e poi restare anche sul mio profilo. È incredibile. In cui non funziona più andiamo avanti. È incredibile Giuliana come sia stata la tua una crescita esponenziale e velocissima. Nell'arco di... Allora, ti dico subito che io quando vidi il tuo profilo e vidi una tua live avevi una cosa come tipo ed erano già tanti io comunque 100.000 followers ma ti parlo di una settimana fa. Sì, una settimana, dieci giorni fa. Cioè tu hai capito tu hai raddoppiato in pochissimo tempo in una settimana questo sta anche un pochino a dimostrare il tipo di pubblico di TikTok in Italia specialmente a Napoli e poi che queste cose funzionano cioè attirare... Prego, prego, vai, vai, vai. Volevo dire in pratica questo è vero perché comunque una crescita una potenziale crescita c'è un po' per chiunque faccia l'MPC però nel mio caso anche il fatto che sia maggiore rispetto a tutti gli altri profili che propongono l'MPC la crescita del mio profilo è stato anche questo strategicamente pianificato ed è la chiave è nascosta nel fatto che io non propongo solo l'MPC tu arrivi sul mio profilo perché resti diciamo in napoletano stupatiata da questo fatto che faccia l'MPC però poi capi tutto il profilo e trovi una persona che ha delle cose da esprimere da raccontare che comunque provo a farlo con un sentimento provo a farlo con una napoletanità eccetera ed è quello l'elemento che ha fatto poi che fa restare tante persone che converte tante persone da semplici passanti a persone che dicono a volte c'è qualcosa dietro questa ragazza fammela seguire allora io voglio un attimino affrontare un tema che secondo me anche Mario aveva intenzione di affrontare fra pochissimo quindi ti anticipo proprio di qualche minuto si è parlato tantissimo con aspiranti psicologi in erba che sostengono tutta questa teoria della manipolazione del controllo che si nasconde dietro le live mpc questa è una cosa che sapevo pure io cioè della neuroscienza cioè di quello che il tuo fenomeno di quello che stai portando porta nel subconscio dell'essere umano a questa teoria del controllo il fatto che la donazione possa influenzare o meglio possa proprio comandare quelle che sono le tue immediate azioni degli stati successivi questo piace e quindi allora sì sapete cosa penso che praticamente le parole sono una cosa potentissima e detta così sembra che io abbia qualche superpotere mentale cioè qualche superpotere su qualche controllo sulla mente delle persone quando invece il punto qual è che effettivamente una live mpc va a toccare delle corde va a cavalcare dei nostri bias ed è un po' lo stesso meccanismo se ti posso fare degli esempi hai presente il tamagotchi quei giochi che tu ho capito ho capito che intendi oppure gli artisti di strada dove tu gli fai la donazione e loro reagiscono in un modo è ovvio che c'è un soddisfacimento dei bisogni in questa cosa io ti do qualcosa e in cambio tu reagisci però da qua a parlare a manipolazione delle menti purtroppo non ancora hai superpotere sarebbe troppo bello diciamoci la verità questi professori questi professori di neuroscienza e neuromarketing che stanno dietro alla tastiera diciamo che non è quello il motivo dai o meglio magari lo è anche solo che è conseguenziale nel senso che è stato inconscio esatto cioè non è che hai iniziato per quello il tuo obiettivo non è quello di influenzare le masse mettiamola in questo modo questo sicuramente quello che mi ha fatto capire che quindi dietro tutto ciò c'è una strategia ecco qui da qui viene la persona intelligente che pensavo che fossi viene una strategia per fare altro per lanciarti appunto sui social e insomma nel mondo dell'internet che mi ha fatto capire che è strasaturo quindi dovevi trovare un qualcosa di tuo per poterlo fare per lanciare poi un tuo progetto futuro per emergere rispetto a tutta la proposta che c'è oggi sulla piattaforma secondo te avresti potuto farlo in modo diverso cioè avresti potuto trovare qualcosa di passami il termine più intelligente più acculturato guarda io ho capito cosa intendi sinceramente reputo che farlo cioè premessa reputo che farlo utilizzando il format dell'MPC almeno nel modo non parlo per tutti gli'MPC nel modo ma nel modo in cui lo sto facendo io credo che sia fatto in modo intelligente acculturato perché senza le conoscenze di base in sociologia psicologia generale appunto media eccetera comunque non sarei arrivata a fare una cosa del genere magari avrei visto la live di Pinkidolle avrei detto anch'io oddio questa è un'idiota questa è pazza e invece no quindi è fatto così però ho capito cosa intendi tu cioè se è possibile raggiungere un grande pubblico con contenuti prettamente più scusa mi sento di nuovo con contenuti diciamo più acculturati in sé forse intendi dire sì e no perché secondo me TikTok come piattaforma ha e come qualsiasi piattaforma nomi come social network eccetera ha un linguaggio tutto proprio e quindi sì è possibile magari accumulare un pubblico di nicchia proponendo dei contenuti più acculturati in questo senso ma riuscire a farlo in un certo modo cioè sono formati di contenuto su TikTok vanno un determinato genere di cose perché gli individui utilizzano TikTok per soddisfare appunto determinati bisogni io non vado su TikTok per sentirmi leggere l'enciclopedia mi dispiace ma non è così vado su TikTok per farmi intrattenere bravissima però questo dimostra anche una cosa che forse non hai spiegato ma tu hai una laurea e hai studiato tanto altro non hai fatto cioè non è che nasci da nulla e fai solo questo no no ma poi a prescindere da questo io mi permetto di intromettermi innanzitutto per fare i complimenti a Mario che stasera sembra David Guetta perché tu non lo sai sì sì sto facendo tutto quello che sta succedendo in questo momento ogni volta che tu dici che ti senti è perché Mario magari perde qualche frazione di secondo perché in realtà ogni volta che tu parli lui muta un dispositivo ne accende un altro poi quando parliamo noi deve fare il passaggio inverso sta sudando sono un produttore favosissimo adesso gli porteremo un bicchiere d'acqua e zucchero per farlo riprendere però sta andando tutto bene quello che volevo dire poi in realtà è che utilizzare la parola acculturato o intelligente è secondo me estremamente improprio cioè nel senso secondo me la parola giusta non esiste però il concetto è che attiri meno critiche forse anche se devo ammettere che ho visto in questi giorni insomma vedendo le tue live stai avendo molto amore esatto adesso questo anche faceva parte della strategia nel senso la conversione della concezione di chi sono e quello che sto facendo nella mente del pubblico che piano piano si sta accumulando cioè va bene che tu appunto pensi che io faccio l'NPC sia stupida però il far uscire anche quel pezzettino della canzone che speriamo di riuscire a pubblicare presto per intero su Spotify eccetera con qualche etichetta e quant'altro sempre proprio per far capire alle persone guarda che in realtà c'è anche qualcosa di figo c'è anche un messaggio dietro tutto questo anzi ce ne sono tanti ed il messaggio è cioè l'opinione degli altri non definisce la tua identità se tu un giorno ti vuoi svegliare e ti vuoi mettere a fare l'NPC sei figo di perché hai self confidence non che qualcuno ti dica che stai facendo la cosa giusta oppure la cosa sbagliata cioè fondamentalmente se tu hai degli obiettivi e sei consapevole che come stai facendo non hai bisogno dell'approvazione altrui questa cosa è è sintomo di una personalità estremamente matura quindi ti facciamo i nostri complimenti e poi vabbè mi interrompo un'altra volta per dire a Mario che se mi interrompe di nuovo prendo la tazzina e gli apro la fronte gli apro la fronte e vabbè a prescindere da questo una domanda che tutti si sono fatti ed è anche il motivo che secondo me ha spinto tantissimi poi a imitarti a emulare quello che fai su tiktok e si guadagna bene con le live NPC no nel senso che tantissime persone pensano che chissà quanti soldi si guadagliano ma ragazzi stiamo parlando che ogni rosa vale 0,01 centesimo cioè purtroppo ancora mi devo svegliare alle 5.20 del mattino per andare a lavorare nel senso non infatti non mi guadagno no ma immagino infatti io so tra l'altro non vorrei fare una gaff incredibile perché questa sarebbe proprio triste è il tuo momento però se non sbaglio Giuliana non so tu segui Pinky Doll come persona come personaggio proprio o la conoscevi solo dalle live NPC dalle live NPC ovviamente l'ho seguita ma non è che sappia chissà perché se non sbaglio producer questa cosa la dobbiamo fact check perché altrimenti veramente vai finisco no no perché finisco carcerato smerdato in diretta vai lo puoi dire se non sbaglio lei si è la più famosa NPC al mondo di conseguenza americana quindi una lingua diversa in un continente diverso un pubblico molto più vasto e più ampio le donazioni lì sono ancora maggiori no? di conseguenza quello è sicuro magari ecco io so che per esempio Pinky Doll ha dichiarato in un'intervista che guadagna 7000 dollari al live cioè ma io dico forse a parole porca mia no ok aspetta 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 io non so per dire quello so per dire proprio che Pinky Doll non non fattura tantissimo da da tiktok dalle live che fa come NPC perché lei ha un un only fans ed è da lì che quindi anche in quel caso una live NPC è un trampolino di lancio e se non sbaglio quindi producer vediamo questa cosa scrivimi soltanto Pinky Doll only fans non mettere foto non mettere immagini però magari cerchiamo perché altrimenti vorremmo poter pubblicare il contenuto esatto esattamente questo però mi fa capire quindi questo ce lo confermi nel senso in Italia perlomeno al momento non è comunque una cosa remunerativa ripetiamo lo stai facendo per crearti un tuo pubblico sì poi ovviamente magari anche io come Pinky Doll cercherò di come dire ce l'ha ce l'ha guadagnare da quello che ne viene ma non sulle donazioni delle persone ma ovviamente sulle attività e sulle cose che io posso proporre che sia musica che sia collaborazioni che sia tante cose questo vabbè ben venga cioè senza ipocrisia si auspica però però vedi ecco mi viene in mente una cosa cosa il pubblico che ti segue in live che ti dona le persone più affezionate secondo te che tipo di pubblico sono nel senso secondo te è poi il pubblico che effettivamente cioè il pubblico che ti stai creando è un pubblico valido per il percorso che vuol fare futuro è fidelizzato io penso se è fidelizzato me lo devono dire loro sì nel senso partiremo a vedere onestamente in realtà chi lo sa ok anche perché poi abbiamo parlato ce l'hai capito non mi voglio sbilanciare perché è tutto molto work in progress quindi io ovviamente proporrò delle cose alle persone che mi stanno conoscendo come PC e mi stanno pian piano scoprendo come persona e ho qualcosa da esprimere però poi se quello che verrà piacerà o no non lo so e quindi quello di cui abbiamo parlato tanto in questi minuti in cui ci stiamo facendo compagnia è che quindi alle spalle delle live NPC c'è un percorso un percorso artistico un messaggio da comunicare un mondo da condividere con il tuo pubblico però ancora non abbiamo detto effettivamente nel pratico in cosa consisterà poi questo percorso che verrà dopo perché ragazzi nel pratico è tutto molto work in progress ci sto lavorando sto facendo il mio meglio sto lavorando ad una molteplicità di progetti di diversa natura e quindi in questo momento pur volendo non mi posso sbilanciare vabbè Giuliana c'è da dire che noi abbiamo iniziato questa chiacchiera oggi quando è penso da nemmeno due tre settimane che stai avendo questo questo boom questo hype questa visibilità sui social quindi è nuovo un po' per tutti in realtà è nuovo un po' per tutti ma perché adesso per via anche della costanza che ho avuto nel tempo è arrivato al grande pubblico anche perché sto iniziando ad essere condivisa è stata una reazione a catena da più persone quindi adesso il boom è sicuramente aumentato se ne sono accorti i giornali è stato un forte boom eccetera eccetera ma in realtà io faccio questo già da mesi il lavoro è costante ok vabbè è importante ah tra l'altro io stando su TikTok con la pagina di Espresso ragazzi ma io vedo che Giuliana cioè come dire questo hustle no che fai è bello importante cioè tu fai una live che a parte durano un casino ma poi ne fai di più durante la giornata cioè tu fai delle live no in realtà le live in questo momento al massimo riesco a fare 20 minuti poi mi si blocca tutto ah perciò io vedo che vai perciò vedo che vai online molto frequentemente cioè io ti vedo spesso in live ci sono alcune giornate dove non ci vado proprio forse l'impressione delle persone può essere quella perché aprono TikTok e escono i perte e pensano vado da quanto tempo sta questa in live di certo io cerco di andare live quasi tutti i giorni quindi forse questa costanza può sembrare capito continuativa però no io magari potessi stare tutta la giornata in live ma ho tempo soltanto il pomeriggio la sera ma io vedo che comunque durante le tue live che tipo ha un tot di like tu interrompi il personaggio praticamente e quindi poi rispondi tipo a un tot di domande a tuo piacere tra quelle che hanno fatto e questo era assolutamente diciamo la call to action che inserita nella strategia per darmi la possibilità appunto di sbloccarmi uscire dal personaggio e presentare la persona è stato proprio quello di cui vi parlavo prima cioè e quali sono poi tra queste le domande che ti vengono chieste più frequentemente cioè di cosa è curioso il tuo pubblico vabbè in realtà ovviamente le cose più frequenti sono quanti anni hai dove lavori dove vivi sei fidanzata eccetera vabbè ci sta è interessante vedere comunque come pian piano si sta evolvendo ripeto questo fenomeno in Italia molto interessante perché ripeto ragazzi non per inciucio o altro ma a me affascina tantissimo vedere come si evolve la mente umana perché io davvero ho seguito bene il percorso che hai fatto inizialmente ovvero questo odio e questa massa di comunque tiktoker anche conosciuti a Napoli in Italia che ti hanno un po' criticato o sfottuto che però poi le stesse persone ripeto lo detto all'inizio hanno iniziato a fare il tuo trend la tua musica forse può sembrare mi spiace dirlo però è il punto che molto spesso le persone proiettano sugli altri le proprie sicurezze le proprie frustrazioni le proprie anche inadempienze oltre tutto questo la maggior parte del pubblico che capita nella live non ha studiato all'università sociologia eccetera che non è un'offesa perché ognuno nella vita fa un po' quel che ti pare quello che riesce magari tu hai competenze in altro non hai le stesse competenze in comunicazione eccetera comunque ho fatto stare che questa mancanza di nozioni ad un certo tipo di pubblico è sfociata in un ma che sta facendo che sta tutta scemo perché proprio mi mancavano le nozioni di base per poter comprendere che non sono ma sotto c'è molto di più però poi nel momento in cui il trend va e funziona e c'è tanto hype allora c'è hype allora che voglio fare lo voglio fare anche io lo voglio cavalcare pure io era sempre un obiettivo esatto è incredibile ed è per questo che è il pezzo musicale che stavo cercando di dire prima perché ho voluto fare proprio un pezzo musicale perché la musica ha questo fortissimo potere no di rendere tutti un po' glamour tutti un po' fighi e quindi andiamocela a ballare questa cosa del fra e da là infatti mi è esploso tutto adesso tante persone stanno capendo e stanno cambiando pensiero allora una cosa importante secondo me lavorare allora tu tu fai un il tuo lo valuti il lavoro cioè secondo te stai lavorando adesso su internet allora fare la live in pc in se per sé no non è quello il mio lavoro ripeto io sono sempre una cameriera però spero cioè senza alcun tipo di ipocrisia un giorno di poter anche perché no lavorare grazie alla creazione dei contenuti anche perché sicuramente per farlo diciamo ho tutte le skills necessarie ho un background da fotografa da videomaker scrivo appunto ho studiato comunicazione media quindi ovvio che mi piacerebbe tanto e quello magari un giorno potrei considerarlo un lavoro che poi attenzione neanche mi piacerebbe per esempio essere etichettata un giorno come influencer perché proprio di per sé è una parola che non mi è mai piaciuta però come content creator sì e io penso che nella società in cui contemporanea noi in cui viviamo oggi sia possibile se si fanno i percorsi giusti le scelte giuste se si produce qualcosa a un certo punto campare fare del proprio lavoro la content creation ecco per esempio una cosa importantissima un qualcosa che serve ok se vuoi lavorare online è sicuramente nordvpn non so se lo sai giù praticamente è esatto se hai nordvpn il tuo lavoro online è molto più facilitato ma non solo anche perché soprattutto protegge tutti i tuoi dati sensibili ah sì esatto e se usi il codice espressopodcast quindi www.nordvpn.com slash espressopodcast che trovate il link in descrizione e potete insomma salvare i vostri dati e tra l'altro avete anche quattro mesi extra sul vostro abbonamento scontato e inoltre sarete anche protetti da tutte quelle pubblicità fastidiose tracker e malware quando vi connettete da una rete pubblica esatto e vi potete vedere le live NPC di Giuliana di Giuliana molto più rilassati qui in giro per il mondo e ricordiamo che questo episodio è sponsorizzato da NordVPN perfetto adesso Giuliana un'altra piccola curiosità andando avanti con con questo tuo personaggio perché immagino che tu lo vivi come un cioè che cos'è un doppelganger è tipo un alter ego un alter ego esatto è un po' più che altro il mio costume di scena cioè io faccio una performance online in live però è proprio il mio alter ego cioè questo quindi questo NPC questa questa live NPC che porti avanti vedo che nascono sempre nuovi emot come li vogliamo chiamare nuove reaction nuove reaction io voglio sapere come ti vengono in mente tutte queste cose diverse e soprattutto ne hai una per ogni donazione diversa allora assolutamente sì anzi questa è stata un'altra delle chiavi del successo della mia performance perché le live ecco appunto abbiamo parlato di Pinky Doll Pinky Doll ovviamente si rivolge ad un pubblico di americani quindi le reaction che le ha assegnato ai vari stickers che possono essere donati sono per esempio Balloon oppure Ice Cream So Good Ice Cream So Good io se avessi preso il format NPC e l'avessi proposto identico cioè copiando proprio Pinky Doll in Italia non avrebbe funzionato la chiave è stata proprio prendere il format ma personalizzarlo in base a due fattori questi due fattori sono stati l'immaginare un obiettivo di noi in quanto italiani quindi le rappresentazioni sociali anche che abbiamo e per strutturare le reazioni ai vari stickers ho attinto al mio personalissimo baveio socioculturale cioè per esempio quando arriva il cuore della testa e io dico cuore sacri San Gennaro a me sembra una cosa naturalistica ah sì quella è la mia preferita quella è la mia preferita super coerente super coerente con la mia persona per questo è efficace cioè se per esempio altri italiani si mettessero a fare la live ABC dicendo anche loro fra fra ho corso sacri San Gennaro ma fate stop e facemolo buono non avrebbe gli stessi risultati della live che sto portando avanti io vediamo se sei d'accordo con me Giuliana vediamo se sei d'accordo io sono convintissimo che il fatto che tu sia napoletana e tu faccia questo ABC in napoletano aiuta tantissimo perché sono anni ragazzi sono anni ah intanto il Beo ha fatto il caffè noi prendiamo un caffè ci avrebbe fatto tanto piacere qui c'è una tazzina commemorativa forse la vedi forse la vedi qui c'è una tazzina che si alza alla tua Giuliana io sono convinto che visto che sono anni ormai che tutta l'Italia è appassionata dal napoletano e lo usa anche nel quotidiano nelle piccole cose io sono convinto che sia diventato un po' anche il motivo una firma per cui no per cui diventato anche così famosa diciamo anzi popolare mettiamola così certo e tu che ne pensi c'è sicuramente pensi che abbia aiutato il fatto che sei napoletana allora il fatto di essere napoletani ragazzi aiuta a prescindere dai tempi dei tempi perché cioè Napoli non è una novità che ha sempre prodotto dei grandissimi talenti tantissima portura tantissima arte cioè il fatto di essere napoletano mi dispiace cioè forse un po' sto stettando lo so mi dispiace però essere napoletani in generale ti dà una marcia in più per non parlare del fatto che sicuramente poi questo in particolare è un anno molto florido per Napoli in generale c'è stato lo scudetto ci sono state tante rivendicazioni dal punto di vista culturale sta facendo un po' di religionismo storico noi veniamo da tanti anni in cui c'è stato tantissimo scud a Napoli insomma Napoli è stata veramente calpestata per anni e anni per ragioni poi politiche economiche del nostro paese nelle quali non entro nel merito però finalmente piano piano grazie appunto a tutta una serie di artisti cantanti registi sapete facendo nel cinema negli ultimi anni dal punto di vista napoletano questo ovviamente alimenta nella testa delle persone nell'immaginario collettivo appunto delle persone il fatto che il napoletano sa il fatto suo e poi c'è da dire che come lingua è che cazza no? è bella da sentire musicale orecchiabile attira attira è quando tu ti metti a fare quelle esatto quando ti metti a fare quelle moz fan c'è una reaction che fai meno frequentemente delle altre cioè nel senso anzi la giro al contrario vedo che le donazioni che ti vengono fatte sono praticamente sempre le stesse le rose il cuore il tiktok sai non sono molto varie forse perché sono quelle più popolari le più gettonate quali sono quelle che non ti vengono fatte mai cioè chiaramente non ti chiedo di spoilerarcele qui con noi in live no figurati però quali sono proprio le donazioni che non ricevi mai per le quali hai magari una reaction preparata che non puoi mai fare allora in realtà quello sai qual è il punto che quando tu apri il catalogo di stickers che potresti potenzialmente donarmi ovviamente ognuno vale una certa somma quindi per esempio quelle che tu vedi più frequentemente che mi vengono donate valgono appunto 0,01 sì sono chiaramente quelle più economiche poi ovviamente hanno delle donazioni che sono stracostose cioè della roba che ci vorrebbero 50 euro e quelle come fa cioè sarebbe poi assurdo se qualcuno ah non hai mai ricevuto una cosa del genere ho ricevuto le donazioni cioè in tutti questi mesi di stickers particolari che mi hanno anche messo in difficoltà perché poi appunto io non ho una reaction pronta per queste cose che tanto so che è difficilissimo che mi vengono regalate però sovventura una cosa divertente cioè il fattore dell'improvvisazione perché se mi regalano una cosa che non ho mai ricevuto devo vedere come reagire esatto io se mi mettessi nei tuoi panni troverei molto no ma io non ti ci vedo proprio con tutto il bene tutto il bene manchi di inventiva di faccia tosta di puzzle ti mancano le puzzle esatto allora devo dire che personalmente io la trovo una cosa ripeto ti voglio bene ti ripeto sei una persona molto intelligente la trovo una cosa comunque molto ridicola io non la farei mai e non sono il pubblico di Giuliana è una cosa che non potrei mai però se dovessi mettermi nei tuoi panni ma non come artista content creator eccetera diciamo come lavoratore ok manca manca Giuliana lo deve fare per forza Mario ok questo in questo senso mi trovo in difficoltà nel rimanere sempre nel personaggio senza mai distrarmi inventandomi qualcosa di nuovo come hai detto tu se dovesse scappare qualcosa una notifica nuova insomma qualcosa e non ti aspetti e in più ripeto ritornare poi nel personaggio ripetere le stesse cose Beo ma poi a te manca la memoria Mario a te ti arriva la terza volta e ti arriva un cuore non ti ricordi come cazzo si fa che cosa avevi preventivato appurato appurato che la trovo una cosa imbarazzante ok ti trovi che però è una cosa anche complicata da fare io credo che sia estremamente difficile fare una cosa del genere non ripeto questo lo sto dicendo per non prenderci in giro no no serio la nostra opinione e la nostra impressione su quello che fa Giuliana l'abbiamo spiegata penso che ci sia capita però io comunque nonostante la pensi così diciamo allargo i miei rizzonti apro la mente e ti dico che secondo me è anche una cosa complicata da fare capito ci vogliono sicuramente doti attoriali sì allora io credo che le cose più importanti siano sicuramente la memoria poi effettivamente ci vuole come dire la la mimica facciale eh certo insomma sì allora diciamo che è comunque piaccia o non piaccia una performance e per riuscire a farla bene come ogni performance bisogna mantenere un focus io però sono una persona che tipo quando si mette in testa di fare qualcosa fa in hyper focus quindi no bravissima mi mancava proprio questo performance cioè tu quello che stai facendo l'hai detto tu stai dando una performance lo è ok e cosa invece ti ha ti ha fatto girare proprio le palle in questo ultimo periodo cioè tu che hai ricevuto tutto questo questo odio iniziale cos'è che ti ha proprio dato più fastidio no onestate cioè ti riferisci per esempio agli insulti alle offese come no vabbè da persona intelligente che ripeto ti reputo sicuramente sarei andata oltre quello anzi non solo io ho visto anche sotto molti tiktok commenti tuoi in cui rispondevi anche molto bene cioè nel senso con mamma mia che invidia io quando capita sotto ai nostri video qualche commento negativo io vado proprio al manicomio Mario mi deve legare perché io altrimenti ci resta male ci resta male ci resta molto male e poi partirei con le rispostacce brutte invece tu sei sempre molto sai educata gentile ma assolutamente non c'è bisogno di arrabbiarsi non c'è bisogno di ripagare con la stessa moneta i miei valori comunque sono quelli della gentilezza dell'educazione della dolcezza anche nei confronti del prossimo questo ti parlo da Giuliana la persona non Giuliana l'NPC quindi figurati se mi metterei qualche volta posso fare un po' di ironia perché mi diverto pure io ma non è che mi metterei a ripagare con la stessa moneta anzi ma abbiamo assoluto il fatto che tu quindi vivi all'estero in questo momento ma qualora tutti i tuoi piani cosa che noi ci auguriamo vadano come devono andare torneresti in Italia tornerei in Italia in trasferta per fare le cose che spero capitino di fare e poi tornerei a casa mia qui ad Amsterdam diciamo che secondo te tornare qui fare quello che stai facendo adesso qui troveresti la cosa difficile ti ostacolerebbe raga il punto è che non cambierebbe niente da questo punto di vista perché io comunque tornerò in Italia tipo prima o poi per farmi una vacanza per venire a trovare gli amici che ho lasciato lì insomma Napoli è comunque sempre casa mia e ci torno e sì chissà cosa mi aspetterà da parte delle persone però insomma vivi in Italia per tutt'altri motivi ma di certo anche se vivessi in Italia non mi farei problemi a continuare ad andare per la mia strada ci stava vabbè onesta no perché io vedo sempre sai ragiono nel quotidiano sai Giuliana scende di casa ah lei è quella che fa le live NPC quindi sempre molto a giudicare quello che io ho notato tu avrai sicuramente viaggiato parecchio Giuliana giusto cioè stando anche lì immagino sei una persona che viaggia da persona che ha viaggiato parecchio nella vita io posso dire con sicurezza che all'estero ci vedono molto come quelli giudiconi ma forse lo siamo l'italiano quello che giudica parecchio ci vedono così perché effettivamente siamo così e quindi a me per esempio darebbe anche un po' fastidio no cioè fare una cosa del genere che ripeto imbarazzante tutto quello che vuoi sono sempre là scusami ma l'imbarazzo è una proiezione che stai facendo è una questione di self confidence perché dovresti essere imbarazzato da qualcosa se sei convinto di quello che stai facendo le persone proiettano le proprie insicurezze il proprio imbarazzo su di te e cercano di demolire te per appunto sempre una questione di soddisfacimento dei bisogni magari tu per sentirti un secondo migliore di me hai bisogno di abbuffarmi di insulti ma se io so che così non è ok no vabbè certo si può in effetti risultano poi essere parole vuote sì no ma io immagino anche molti molti ragazzi e non magari che vogliono intraprendere un percorso creativo e non che però durante la giornata gli vengono messi i bastoni tra le ruote da persone che sì io dico in quel caso cambiate paese perché effettivamente se quello che vi quello che vi opprime no socialmente nel diventare quello che volete essere nel fare quello che volete fare è il contesto in cui purtroppo in Italia siamo immersi e non sto parlando di Napoli perché non è una questione di Napoli è proprio il nostro paese in generale che effettivamente è così è culturalmente così ma infatti anche stare qui ad Amsterdam è stata una delle cose fondamentali che mi ha permesso oggi di fare questa cosa probabilmente anche io un anno o due anni fa o comunque quando vivevo a Napoli non avrei avuto la self confidence necessaria per fare una cosa del genere ma uno dei principali di quello che sto facendo sì insieme al raggiungere un pubblico eccetera quando poi invece andiamo sul lato ma che messaggio vuoi passare magari a una ragazzina che ti sta guardando e il messaggio è proprio questo l'opinione degli altri non definisce la tua identità tu devi fare quello che ti senti se hai degli obiettivi non te ne deve fregare niente del giudizio altrui e questa è una cosa che in Italia bisogna lavorarci molto a livello sociale e culturale mi metto io in gioco e ti dico che ripeto nonostante abbiamo comunque delle idee diverse riguardo riguardo quello questa attività creativa che stai portando avanti io comunque con molta educazione te lo spiego ma anche se non abbiamo la stessa idea io comunque ti ho qui stasera a parlare con te perché magari Giuliana NPC non è di mio gradimento la schippo e vado avanti ma Giuliana Florio come persona molto intelligente ci faccio volentieri una chiacchierata capito e state va benissimo perché voglio dire è anche una questione di educazione e civiltà bravissima quello so per dire educazione e civiltà se non ti piace una cosa va benissimo però il modo in cui esprimi il fatto che ti piaccia o non ti piaccia definisce niente di me ma definisce tanto di te cioè e questa è una cosa che hai detto se non ti piace una cosa mi insulti questa è una cosa e Mario dopo questa cosa Mario si chiuderà nel bagno per un quarto d'ora no 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 non c'è ragione cioè non c'è niente da dire capito quando è così no no vero vero io invece non so che cosa potrà significare a livello della mia personalità però io invece sono estremamente attratto e attirato dalle live NPC di Giuliana quindi non so questo come mi qualifica per esempio Giuliana una cosa che pure molto era prima molto imbarazzante la ASMR giusto? sinceramente quando andavano tanto di moda la ASMR io non c'ero non c'ero neanche su TikTok perché sono iscritta su TikTok da pochissimi mesi da poco prima dell'estate cosa che però invece a me piace cioè la ASMR è una cosa che invece ascolto con piacere mi aiuta a dormire mi rilassa mi rilassa si 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 mi appascia capito quindi cioè per chi se è per te o non è per te educazione è soggettivo si 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 e poi il bello è che su internet ce n'è per tutti i gusti praticamente esatto allora Giuliana che era pure giusto io veramente ti auguro che questo tuo percorso alla fine ti porti dove tu vuoi e siamo curiosissimi di scoprire quale sarà poi l'obiettivo vediamo e perché no magari in un futuro con un caffetto lo vieni a prendere poi in presenza bisogna bisogna recuperare questa cosa assolutamente però ci ha fatto assai piacere che sei la nostra prima intervista in pc che è il nostro primo episodio in pc è vero è vero Giuliana grazie mille grazie per essere stati con noi in nostra compagnia grazie a voi per avermi intervistata no male grande grazie questo sarà uno dei momenti iconici di espresso podcast grazie mille Giuliana un abbraccio grazie mille ciao ragazzi ciao ciao